Dopo il successo della prima edizione torna La Toscana che fa bene, il premio dedicato alla migliore campagna di comunicazione sociale promosso da Corecom Toscana con CESVOT e Consiglio regionale della Toscana. Sì, un premio importante che il Consiglio regionale promuove perché c'è un livello di massima attenzione e promozione in quella che è la comunicazione sociale, quindi una collaborazione che ovviamente si struttura con Corecom e CESVOT per cercare di veicolare la pubblicità di un bando che consentirà la premiazione di quella che verrà considerata la migliore comunicazione a livello sociale della nostra regione, quindi un atto importante che ha una valenza di carattere ovviamente istituzionale ma soprattutto sociale e divulgativa di valori che sono fondativi dell'essenza della regione toscana. La Toscana che fa bene nasce per promuovere tutti i linguaggi capaci di smuovere coscienza e portare all'azione, alle buone azioni, capaci di fare la differenza e unire le persone nella vita di tutti i giorni. Sono le parole della comunicazione responsabile, quelle dedicate all'impegno civile e al volontariato. La Toscana che fa bene è la seconda edizione di questa iniziativa che il Corecom ha promosso e aperta a tutti i soggetti associativi, istituzionali e anche soggetti privati a Toscana e è centrata proprio per far emergere le belle campagne di natura sociale che avvengono all'interno della Toscana. Già c'è stata una prima edizione dove ha vinto l'Unione Italiana Cecchi di Prato, il premio è di 5.000 euro e il bando è aperto fino al 31 ottobre a tutta la Toscana che fa bene, che in qualche modo si mette in gioco con passione, con cuore, con entusiasmo dentro campagne di natura sociale. Spesso però chi compie buone azioni lo fa lontano dai riflettori e non è abituato a raccontarsi. Per questo CESVOT da sempre al fianco dei comunicatori mette a disposizione come fonte di ispirazione e riflessione il proprio archivio della comunicazione sociale, con 3.515 campagne di pubblicità sociale provenienti da 68 paesi diversi. La comunicazione sociale serve al volontariato per lanciare delle campagne che non sono di marketing, perché noi non facciamo marketing, ma facciamo però marketing sociale nel senso di indurre comportamenti virtuosi nelle persone che possano da una parte dare valore alle persone, perché anche riprendere in mano appunto la questione del valore infinito della persona e dell'ambiente in cui siamo. Quindi diciamo le tematiche normalmente sono queste e sono quelle che ci interessano e interessano al nostro mondo, al mondo del volontariato che è sempre attivo su questi temi. Grazie a tutti!